Tragedia nell'Agrigentino a causa del maltempo. Un imprenditore agricolo di Casteltermini, Stefano Spoto, di 44 anni, sposato e padre di due bambini, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo si trovava in campagna, nella zona di Contrada, Pizzo, Santa Croce, e stava prendendosi cura del proprio greggio di pecore. Per una fatalità si era assunto lui l'incarico, in modo da evitare all'anziano padre di recarsi all'aperto con il maltempo. Il corpo, con accanto l'ombrello e il cellulare, è stato ritrovato da un contadino che stava transitando in Contrada, Pizzo, Santa Croce, a bordo del suo trattore. Subito sono stati allertati i soccorsi, ma il personale medico, arrivato rapidamente sul posto, ha solo potuto constatare il decesso dello sfortunato imprenditore.